Taranto non è certamente una città a misura di bambino, lo dicono purtroppo le classifiche specializzate nel settore, classifiche appunto a livello nazionale e mi trovo qui al quartiere Paolo VI in Viale Pietro Nenni dinanzi all'edificio V17, parliamo di edifici di proprietà comunale, guardate sono state rifatte le facciate ma guardate un po' tutti questi cordoli, queste fioriere chiamiamole così, guardate cosa c'è, ci sono ancora i ferri proprio che fuoriescono dal cemento, immaginate i rischi che corrono i bambini, c'è solo da vergognarsi, cari signori dell'amministrazione comunale, caro assessore al patrimonio Gianni Azzaro, caro assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno, ma è possibile degli stabili di proprietà comunale si ristrutturano e qui si lascia così, ma pensate un po' cosa può succedere a un bambino che sta camminando, che sta correndo, che sta giocando, che non ha certamente la mia altezza ma mi arriva qui, guardate questo ferro si può conficcare in un occhio, questo ferro si può conficcare nel petto addosso ad un bambino, vi rendete conto? Si può lasciare una città in queste condizioni, un cantiere abbandonato e qui non c'è luce di una ripresa di lavori, non si sa, si lascia così e poi come si suol dire chi si è visto si è visto, guardate, ma anche il bambino che gioca così, che si appoggia, questi sono pericoli, pericoli gravissimi, dovrebbero, io interverrò anche perché a questo punto intervengano i vigili del fuoco e mettano in sicurezza l'area, qui non si può stare, qui deve essere interdetto l'accesso a questa fioriera, perché ripeto, pericoli gravissimi, pericoli gravissimi, è mai possibile? Come fa l'amministrazione comunale a sciacquarsi la bocca a parlare di rinascita di Taranto, di città a misura di bambino e poi si assiste a questi scempi? Ma sembra di essere in una città del terzo mondo, perché questa amministrazione sta amministrando in una maniera così scadente, così scarsa, con risultati devastanti per il territorio, risultati e gestione che sta rendendo Taranto una città del terzo mondo, con rischi gravissimi, gravissimi per i bambini, per i più piccoli, ma dico i bambini per modo di dire, perché anche un anziano può passare lì e può farsi male, un anziano, un adulto, ma considero, come dire, in centro la mia attenzione su quelle che sono le categorie più deboli, le categorie più fragili. Io sono abituato, sono un consigliere di strada, raccolgo da consigliere queste segnalazioni e poi le porto nelle sedi competenti. Qui ora ovviamente mi rivolgerò al settore patrimonio, visto che trattasi di abitazioni di proprietà comunali. Questa è Taranto, che piaccia o no, Paolo VI, Viale, Pietro Nenni. Poveri bambini, non meritano questi schiaffi dall'amministrazione Melucci.